Inizia la quinta edizione di Donne Summer all'interno della manifestazione Teramo Natura Indomita dal 21 al 25 luglio, 5 serate dedicate alla cultura, all'arte, allo spettacolo e all'intrattenimento. Sì, inizia la quinta edizione di Donne Summer all'interno di questo grandissimo contenitore. Partiamo subito con una grande cantante, con Alice che canta Battiato, questo grazie anche a Abruzzo Circuito Spettacolo e Abruzzo Dal Vivo. che ci ha permesso di fare entrare Alice nel nostro cartellone di Donne Summer. È già sold out, però invitiamo il pubblico a venire al parco che sarà comunque aperto. Continuiamo dopo con The Holicrams, un gruppo tutto a Fermini e Terramano. Sabato siamo felicissimi di ospitare Antonella Ferrari con il suo show da riflettere sulla condizione delle donne e su una malattia che ha colpito questa grandissima donna indomita, oserei dire. Si chiude domenica con una degustazione a Piazza Sant'Anna con la Fisar Rosa e la migliore sommelier italiana e si chiuderà al parco fluviale con lo show di Cinzia Leone. Vi aspettiamo tutti indomitamente. Il tema centrale è la donna, ma a questo tema si affianca anche la ripartenza in quello che sarà il contesto appunto del parco fluviale. Sì, noi andiamo proprio sulla forza delle donne, questo slogan per la quinta edizione e soprattutto la forza delle donne che porti a essere forti nel ripartire, soprattutto per tutti gli operatori del mondo dello spettacolo, ma non solo gli artisti. Noi quotidianamente vediamo lavorare le maestranze, i tecnici, tutto ciò che c'è all'intorno di un grande evento. Di questo l'area food che parte oggi dalla città di Teno, quindi siamo felici perché tutti i lavoratori stanno riprendendo ad essere operativi.